Ciao Cutler, bentornato e bentornata. Continuiamo nella descrizione del tuo BIOS ed ora proseguiamo nella marcia delle impostazioni. La successiva sezione a cui accederai dall'ultima lezione ti permetterà di entrare nel reparto di sicurezza del tuo computer. Potrai inserire una password per evitare che alcuni estranei possano accedere e variare le impostazioni del tuo BIOS oppure addirittura impedire l'accesso del PC al suo avvio. Puoi anche fornire, se vuoi in qualità di amministratore del tuo PC, una password con accesso limitato al computer e creare così una cerchia di utenti abilitati a poter controllare, leggere e variare solo alcune impostazioni del BIOS del tuo computer. Infatti, se ti posizioni nella sezione Set Supervisor Password e premendo invio, ti permetterà l'accesso ad un campo in cui dovrai inserire una tua password in qualità di amministratore supervisore. Premendo successivamente invio, potrai abilitare altre sezioni che nello specifico di questo BIOS sono Set User Password, ossia impostare una password per un utente, uno o più utenti. Password di avvio che ti permetterà di limitare l'accesso al computer inibendo anche l'avvio del sistema operativo senza aver inserito una password. Se in questi ultimi due campi però non inserisci alcuna password ma lasci inserita quella di amministratore, ogni qualvolta un utente tenta di accedere al BIOS dovrà ovviamente conoscere la password che hai inserito come requisito essenziale. Se invece nella zona Set User Password inserisci una password e la comunichi a uno o più utenti, darai accesso limitato ad alcune sezioni del BIOS in modo da poterle visionare o in alcuni casi anche cambiarle. Queste password saranno richieste soltanto se l'utente tenta di accedere al BIOS ma non all'avvio del sistema operativo. Se invece vuoi permettere l'accesso al PC solo ad un gruppo limitato di persone e quindi inibire l'avvio del sistema operativo se non dopo aver inserito una password, dovrai impostare questo parametro nella funzione Password on Boot. Quindi digitare una parola chiave che comunicherai ai tutti i tuoi utenti e solo chi è in grado di conoscere questa password potrà avviare il computer. Quindi, riepilogando, potrai se vuoi rendere ostico l'accesso al BIOS o anche al sistema operativo inserendo una semplice password. Qui in dettaglio rivediamo quanto appena descritto. Nella sezione Set Supervisor Password premendo Enter e digitando una password creerai l'accesso al BIOS in qualità di amministratore. Si abiliteranno anche questi due campi che se lascerai liberi potrai accedere al BIOS in maniera globale come supervisore tu o coloro che conosceranno questa password. Se invece vorrai dare accesso limitato ad alcuni utenti, sarà necessario inserire una password in questa sezione e solo coloro che conosceranno tale chiave potranno accedere, ma in maniera limitata, al BIOS. Infine, se vorrai limitare l'utilizzo del tuo PC con la conoscenza di una password, sarà sufficiente abilitare questa funzione ed inserire la chiave di accesso e quindi solo coloro che conosceranno tale password potranno avviare il sistema operativo. Forse ti è venuta a mente una domanda. No? Va bene, te la spongo io. Nel riepilogo appena fatto potrai trovare scritto il termine rendere ostico invece di impedire. Il motivo è, come suppongo tu saprai, che nel mondo informatico certezze assoluti in termini di sicurezza non esistono. Infatti, una persona determinata a raggiungere uno scopo all'interno del tuo computer sicuramente riuscirà nel suo intento in quanto saprà dove mettere mani. Il bello è che anche tu stai per conoscere questo piccolo segreto per violare un PC o un BIOS bloccato da password. Mi chiederai come si fa, ma guarda che se non lo immagini già lo sai, non lo ricorderai, ma il senso è, cosa ti ricorda la rimozione della batteria tampone o la cancellazione dei dati nella memoria CMOS? Hai capito quanto possa essere semplice? No, te lo spiego. Dopo tale azione, ossia dopo aver rimosso la batteria tampone o dopo aver risettato i parametri base all'interno del BIOS, non saranno più presenti i parametri di risettaggio di impostazioni dello stesso. Quindi, al riavvio, caricando nuovamente quelli base, avrai libero accesso al BIOS e al sistema operativo, in quanto non sarà più provvisto da password di accesso. Ma questo è soltanto uno dei metodi, forse il più semplice. Andiamo avanti nella sezione sicurezza, perché c'è un'altra funzione importante che può ritornarti utile, ossia quella di abilitare o meno la scrittura della memoria flash in cui sono presenti le impostazioni del BIOS, in modo da evitare che scritture involontarie o indesiderate da virus lo possano alterare. Se nella sezione FlashWrite tu imposti il parametro Disable, in pratica la memoria del BIOS sarà protetta da qualsiasi scrittura volontaria o involontaria, quindi da BIOS, determinata da eventuali malware. Ne viene da sé che se volessi tu effettuare un aggiornamento programmato dello stesso, dovrai riabilitare tale scrittura, altrimenti questa operazione ti sarà preclusa. Troverai la sezione FlashWrite che se abilitata permette la scrittura e la variazione quindi del tuo BIOS, dei parametri del BIOS, un aggiornamento in sintesi. Qualora tu la disabilitassi sarà impossibile l'aggiornamento del tuo BIOS. Andiamo avanti nella sezione Power delle impostazioni del BIOS. In questo caso, questa sezione ti potrebbe interessare in quanto potresti impostare che le porte USB rimangano alimentate anche se il PC è spento. Quali potrebbero essere i vantaggi? Beh, è semplice, quello di poter collegare delle periferiche tipo mouse wireless o lettori portatili e cellulari senza accendere il computer e quindi potrai ricaricarli, ma ne segue che hai uno svantaggio in termini di consumo in proprio di corrente anche se non colleghi alcun dispositivo a queste porte USB. Poi, tra l'altro, non ci vogliamo mettere anche un discorso di sicurezza qualora tu non fossi nell'abitazione o nella zona di lavoro del tuo PC. Ad ogni modo, per attivare tale funzione, sarà sufficiente posizionare la funzione USB at power off settandola su Always On, ossia abilitando sempre le porte USB anche se il PC è spento. Ovviamente, questa opzione, pur se valida, è preclusa qualora l'alimentazione al tuo PC avvenga o tramite ciabatta o tramite gruppo di continuità qualora sia la ciabatta, ad esempio fornita da interruttore o il gruppo di continuità, siano spenti, in quanto non arriverà alimentazione dalla rete elettrica all'alimentatore presente all'interno del tuo PC. Se vuoi, come ulteriore opzione, puoi anche aggiungere l'avvio del computer da tassiera. Infatti, alcune tassiere hanno un tasto che ti permetterà di avviare il PC lasciandolo in una condizione, per così dire, di dormiveglia e questo è realizzabile nel momento in cui posizioni su Enable la sezione USB Keyboard. Quanto appena descritto lo rivediamo da questo screenshot. USB at power off, se posizionato su Always On, mantiene le porte USB alimentate anche con PC spento. La sezione USB Keyboard su Enable abilita l'accensione del PC dalla tastiera. Raggiungiamo ora la sezione dedicata ai dispositivi di avvio del computer. In questa sezione, puoi dare un ordine di priorità nella scelta dei dispositivi di avvio del tuo computer. Il PC può avviarsi in vari modi, sostanzialmente da disco rigido o da supporto ottico o da periferica USB o da scheda di memoria, scheda di rete e altre diavolerie che in futuro inventeranno i produttori. Sta a te ora decidere quale dispositivo deve essere utilizzato dal tuo BIOS per poter avviare il computer in maniera più semplice il sistema operativo. In quanto è il tuo computer, perciò dovrai definire tu quest'ordine. Supponi ad esempio di definire questa priorità di avvio nel tuo computer. Primo dispositivo, una periferica USB. Secondo dispositivo, un lettore ottico. Terzo dispositivo, il disco rigido. Cosa accade all'avvio del PC? Una volta che hai impostato questi parametri, che quindi hai determinato l'ordine di priorità, il tuo BIOS cercherà dapprima un sistema operativo o comunque un sistema avviabile da una periferica USB. Se non è collegata o non è presente alcun sistema operativo su essa, passerà al successivo dispositivo, che nella fattispecie è il lettore ottico. Se è presente un disco all'interno del lettore ottico, si avvierà il programma presente all'interno di questo disco. Altrimenti, in questo caso, il PC passerà alla successiva periferica per avviare il sistema operativo, il tuo hard disk. Se dopo questa fase il BIOS non dovesse trovare alcun sistema avviabile in nessuno di questi dispositivi, te lo notificherebbe con una scritta ammonica di mancanza del sistema operativo. Personalmente, vi suggerisco proprio di selezionare queste impostazioni come ordine di priorità nella scelta di dispositivi di avvio per due motivi. Uno, è una condizione non invadente, in quanto ti dà la possibilità di avviare il PC in caso di problemi senza che tu debba entrare all'interno del BIOS, ad esempio se si sono verificati dei crash del sistema operativo oppure in caso di diagnostica, ripristino, ristalazioni o quant'altro. In seconda ipotesi, in quanto una leggenda all'interno del BIOS ti descrive sempre come selezionare o spostare l'ordine del BIOS dei dispositivi, per cui non corri rischi e in alcuni casi può anche disabilitare quelli non utilizzabili, per cui tutto è reso più facile nella comprensione della scelta di questi dispositivi. Qui in dettaglio trovi un'impostazione in cui seleziona il lettore ottico come dispositivo principale e l'hard disk come dispositivo secondario, quindi il BIOS andrà a cercare principalmente un programma avviabile all'interno del lettore ottico, qualora non trovi il disco o non sia avviabile passerà alla ricerca del sistema operativo all'interno del tuo hard disk. Come dicevo, la presenza di una leggenda descrittiva dei vari tasti da utilizzare per variare le impostazioni del BIOS è evidenziata nella stessa schermata. In questa leggenda vediamo alcune funzioni, ad esempio i tasti up e down, quindi le frecce su e giù, ti permetteranno di selezionare uno o l'altro dispositivo. I tasti più o meno permetteranno di muovere i dispositivi verso l'alto o verso il basso per dare una priorità maggiore o minore. Il tasto X permette di escludere o includere il dispositivo all'interno della lista di avvio. La sequenza dei tasti Shift più 1 permette di abilitare o disabilitare proprio tale dispositivo dall'avvio. Nell'ultima sezione di questo specifico BIOS descriviamo la funzionalità exit, ossia di uscita. Navicando in questa sezione potrai memorizzare le impostazioni che hai eseguito, quindi uscire dall'avvio e salvare proprio tale impostazioni. Oppure tralasciare tutti i parametri che hai selezionato, quindi uscire dal setup del BIOS senza tenere in memoria le impostazioni che hai eseguito. Questo può essere utile se tu non sei ancora sicuro o sicura delle operazioni che hai eseguito, quindi dei settaggi che hai impostato. Un bel modo per imparare ad esempio. Potrai anche automaticamente caricare i parametri di base definiti dal costruttore tramite l'opzione Get Default Values o infine caricare i valori che precedentemente erano stati memorizzati grazie alla funzione Load Previous Values. Quindi posizionati su una di queste opzioni, premi invio e dopo un'ulteriore richiesta di conferma si attuerà tale opzione. Andiamolo a vedere. La prima stringa prevede il salvadaggio dei parametri impostati e l'uscita, quindi la memorizzazione delle due impostazioni. La funzione Discard Changes and Exit tralascia le impostazioni selezionate da te e esce dal setup. La funzione Get Default Values rimposta i parametri di fabbrica, mentre l'ultima Load Previous Values imposta i parametri precedentemente memorizzati. Bene, nella prossima lezione conoscerai un altro tipo di interfaccia, quella grafica, quella che attuano i computer, o meglio le schede matri, di nuova concezione. Ora, un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima!